E' orribile! Io stasera non dormo. Ah hi people of youtube, welcome to a new episode of Madadascar 2. A parte gli scherzi, benvenuti in questo nuovo episodio. Madadascar 2, nuova partita. Dopo esserci lasciati col finale del primo Madadascar su Playstation 2, stavolta siamo su Madadascar 2, su Playstation 3. Per due motivazioni, uno ho trovato quello per PS3, mi sembrava stupido andare a cercarmi quello per PS2 e secondo motivo, quello per PS3 ha una grafica sicuramente migliore di quello della PS2, aumentata grazie anche al nostro M Classic. Quello per PS3 ha una grafica sicuramente migliore di quello della PS2. Quindi, nuova partita, questo gioco ha la funzione di autosalvataggio. Scegli uno slot, il numero uno. Io non conosco nulla, né del secondo né del terzo, a livello ovviamente si parla di gioco. I film, devo ammettere che mi sono piaciuti tutti e tre. C'è l'opzione dei trucchi, attenzione. E questo gioco mi sa che non ha trofei, eh. E infatti, niente trofei, dannazione. I primi giochi della PS3, non tutti avevano i trofei, non si sforzavano molto, devo dire. Però non capisco, forse perché appunto c'era anche la versione per PS2. Ma allora, perché fare i progressi, ma non fare anche i trofei? A questo punto penso che sia, a questo punto penso proprio sia il fatto, il gioco è anche per PS2. Non ci mettiamo a fare anche i trofei dedicati a per PS3. Però mi fanno già vedere quanti livelli ci sono. Quindi, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici, tredici. Due livelli in più del gioco della PS2. Wow, con un totale di 1600, credo, monete, 100 scimmie e 94 obiettivi, non pinguini. Oddio, il sistema dei trucchi è questo, quello che devi mettere è l'icone. Africa Arcade, invece, partita rapida e torneo. Adesso non ci interessa, iniziamo l'avventura. Cinque, quattro, tre, due... Adorate i sudditi, e parlo di tutti voi perché presto dovrete prostrarvi tutti dinanzi alla mia magnificenza. Ma questa non è mai la voce di Julian. Sto per lasciare il mio magnifico regno e raggiungervi. Oh sì, la mia regale avventura non può iniziare in questo modo. In questo modo. Torna al punto in cui la mia geniale mente ha avuto l'idea di offrire il mio dominio al mondo intero. Aha. Ma prendere una voce almeno che ci assomigliasse, no? Troppo difficile. Chi può dimenticarli? Chi ci è riuscito, mi dica come. Voglio dimenticare. Dio mio. Comunque tutto ha avuto inizio da lì. Quando hanno deciso di abbandonare la loro misera dimora... Speriamo che quello per il terzo gioco abbia una voce migliore. Esatto, il re Julian. Sono proprio io. No, non sei tu. Il signor Alex ha imparato subito ad apprezzare i grandi spazi aperti. E a dare la caccia ai terribili fossa. Il che mi ha fatto piuttosto... Fossa mangia. Dato che i mostri giganti mi adoravano così tanto... Julian è il personaggio che nel secondo e terzo film diventa veramente poco sopportabile. E quando sembrare unico, condividerò con tutti voi la mia grandiosità. Non lo sopporto proprio Julian come personaggio. Zero totale. Non mi piace per niente Julian come personaggio. Che poi ho scoperto anni dopo aver visto il terzo... che esisteva anche il cartone animato, la serie animata con i pinguini e i lemuri... allo zoo. Sveglia, signor Alex. Sveglia in fretta. Cos'è quest'incubo? Oh no. Di nuovo quel sogno. Dio mio. È orribile. Questo non è un sogno, amico. Re Julian è vivo. Sta bene e fa già foto per la nuova brochure. Madagascar. Porta Re Julian i soldi delle tue vacanze. Sì, certo. È orribile. Ma io devo riposare un po' prima di tornare a New York. No. Ma a parte che voce è questa? Devi correre, saltare e fare tutto quello che ti dico se vuoi finire sulla copertina. Ok. Come prima cosa iniziamo con qualche farfalla. Ma ci sono ancora abbastanza foto di queste belline... Ok, i comandi sono gli stessi della PS2. Del gioco originale. Ma... Oddio. Allora, devo ammettere che... È come guardare una mod grafica di un gioco vecchio. Quando ho installato la mod delle texture 4K su New Vegas. E il gioco che sembra un cartone animato diventa istantaneamente fotorealistico. È più dettagliato. È bello, per carità. Ma... È così strano. E Julian era orribile. Julian era proprio orribile. Cioè... Oddio. Queste farfalle comunque sono immobili. E perché ora abbiamo un retino? Come... Con triangolo. Va bene, spiegamelo però almeno. Oddio. Sì, sì, così. Ok. Così si fa, Alex. Melman, da dove sei sbocato? E come hai fatto a salire su quel macigno? Nessuna di queste domande ha a che fare con le foto che voglio scattare. Ma chi l'ha fatto il modello di Julian? È sfocatissimo. Ehi, posso venire con voi? Ehi, posso venire con voi? Ho un po' di... Beh, almeno la voce di Melman ci sta. Più o meno. La voce di Alex, no. Julian non ne voglio neanche parlare. E dove... Scusami, la macchia fotografica che c'è va Julian? Quella è una bistecca. Ah no, è una moneta. Oddio. Quello è Maurice. No, è un lemure. Vieni qui, ragazzo. Immagine. Porca troia, io ti ammazzo Julian. Giuro che a fine gioco io ti mangio, sappilo. Ci sarà il magnete delle monete? Ora recupera queste meravigliose monete di re Julian che sono sparfallate su tutta l'isola. Julian io ti odio, sai, vero? Oltre a un'occhio di la tipica sensazione di benessere dei ricchi, queste monete ti permettono di fare acquisti al duty free. E come ci arrivo al duty free? Te lo dirò più tardi. Dio mio... No, la voce di Alex è sbagliatissima. La musica è altissima comunque. Cioè, è tutto boh, sbagliato forse. E l'effetto lì delle... Cos'è? Ok. La macchina fotografica ti adora. Tutti gli altri adorano me. Lei invece te. Certo, come no. Posso andare in acqua io? A quanto pare no. Siamo stati... Siamo stati sciacconati. Come non posso nuotare. Nel primo potevo stare in acqua fino qua al collo, praticamente. Da questa parte. Ok, va bene. Vieni qui, per favore. Per favorissimo. Sento la stessa voce da due parti diverse. Quanto vorrei avere... Secondo me c'è il magnete. Però probabilmente è un trucco da mettere il codice, sicuro. Vieni qui. Corri come una gazzella in seguita da... Wow, Marty. Vai davvero come un missile. Tu non lo sai. Ma ho ruminato carote giorno e notte. Ok, la voce di Marty ci sta. Per capire come sviluppare una capacità di super scatto. Cronometro mi. Forza. Sei abbastanza... Cos'è? Non riesci a prendermi? Dio mio. Andiamo, Mortino. Come può una mezza calzetta sperare di battere il sottoscritto? È tutto inquietante. Non hanno senso. È una di queste che può correre come il vento. Perché non ci fate vedere una bella gara, voi due? È tutto dannatamente inquietante. Martenza. Oh, ma quanto emozionante. Ma io davvero devo correre con Mortino. Mortino, ti levi dalle balle? Scusami. Ecco, levati dalle balle, appunto. Aspetta. Grazie. È stato divertente comunque. La mia balla! Sembra che gli avessi tirato un calzo letteralmente. Lo sento dietro di meglio. Grazie. Ecco fatto, ho vinto. Sì. Sì, così. Posso dire che è tutto dannatamente inquietante. È tutto... Cioè, Marty, se noi ganghi escono così mortino, sembra un gremlin uscito male. Il pallone. Ehi! Certo, tu. Guardalo. Dunque, Marty, alcuni dei miei sudditi lemuri hanno trovato la scorta di palloncini reali. Le orecchie. Le orecchie. Le orecchie. Le orecchie come ebety. Ti spiacerebbe farli scoppiare per salvarli? Non ho capito un cazzo. Scusami. Scusami, Julian, ero concentrato sul fatto che... Dove l'avete trovato i palloni, poi? Ok, aspetta. Scusami, i palloni da calcio. Come anche la macchia fotografica. Va bene che su Maddaskar c'era... Un aeroplano. Ma... Come... Eh no. Niente. Non hai neanche il tempo di prendere effettivamente quel bonus, perché... Lui ti dice, vai, c'è un bonus. Eh, ma il tempo che io stavo caricando era già andato. Era già andato via. Non c'è neanche modo effettivamente di capire... Quanto io debba caricare o come sia calcolabile la distanza. Io non riesco a guardarlo, ve lo giuro. Colpisci, il palloncino, bonus. Pure. Ah, dup. Devo pure prenderlo al volo. Che fortuita coincidenza. Grazie, signor Marti. Sei il mio eroe. Bel lavoro, Marti. Porca troia. Spero di averlo tagliato. Spero di averlo tagliato, perché c'era un mortino che andava... Due freni così. E non sono bravo? Marti, sei il mio eroe. No, sto dicendo che sei completamente negato. Ok, ok. Voi altri giganti... Allora, la voce di Alex è sbagliata per il tipo di personaggio. Però non è brutta. Non come Julian, perlomeno. Dio mio, la telecamera. Cos'è sto rumore? Allora, io avevo altre aspettative. Ma io spero che la versione per PS2 a questo punto sia meglio. Cioè, in un negozio qua a Bergamo, credo che ce l'abbiano. Giuro che quando si potrà uscire, perché in questo momento ancora non è possibile, sappiatelo. Vieni con me. Nel momento in cui si potrà uscire, voglio prenderlo e vedere com'è. Oh no, quegli uccellacci hanno rubato le uova. Mettetele giù, uccellacci! Saranno loro, no? Spomenta quei cuculi e allontanali dalle mie rocce, subito! Ma quelli erano uova? Signorale, devi salvare le mie rocce. Guarda tanto quanto pesano. Ma poi come fanno a portare via... Vabbè che non sono enormi, ma come fanno a portare via delle rocce con gli uccelli? Ce l'ho fatta! Niente più uccelli! È sbagliatissima la voce. Gli uccelli tornano! Io devo vedere la versione per PS2, com'è, giuro. Io devo assolutamente vedere com'è la versione per PS2, anche solo in video. Perché se è meglio di questa, giuro, scambio e gioco con la versione per PS2. Fa ancora la qualità, cioè nel senso... Se la qualità mi deve dare questo... Ma che secondo me... Guarda, la butto lì per lo stesso motivo dei trofei. Questo gioco è la versione PS2, però portata su... Su PlayStation 3. Però male. Ma ora mi servono foto di Miss Gloria. E tu non sei un ipopotamo. Julian, io ti affogo, giuro. Augurami buona caccia. L'acqua però è bellissima. L'acqua è di una qualità magnifica. Anche se non sei veloce come me, purtroppo. Julian, io ti affogo. L'emure che nuoti in un lago. Faccio fatica a crederti. Faccio fatica a credere che vai fatica a credermi. Ma è sfocato. Che problemi ci hanno in sto gioco. Una barca. Guardalo. Ma devo pure... La stessa roba, ma devo battere Julian in barca. Ok, Julian. Scusami, eh. Tu la tua barchetta. Tu avrai anche la tua barca, ma io ho un ipopotamo che non può notare veloce. Quindi, scusami, ma ho vinto di default, in pratica. Sì, così! Ma, questo deve essere un sogno. Visto che mi hai sconfitto, quando mi sveglierò, ti mostrerò il trampolino segreto. Come ricompensa... Ok, abbiamo ancora la rotolata, la schiacciata di culo, e posso andare sott'acqua. Posso starci quanto voglio. Come fa? Ah, ok. Si nuota. Ma perché? Che problemi c'ha questo gioco con la videocamera, la fotocamera? Scusami, no, eh. Ogni tanto si sfoca tutto, ma... Anzi, ne ha anche tutto. Si sfocano i personaggi. Non capisco se è un problema del gioco a questo punto. È perché è impossibile che sia la Playstation o altro. Vero? Cioè, nel senso... Ah, non posso uscire... No, posso uscire, ok. Non penso sia un problema della consola a questo punto o altro. Madonna, che capocciata. Io penso che sia proprio il gioco fatto così. Madonna mia. Per amore... Della serie. Io voglio completarla, ma anche per scoprire com'è il gioco. Ma graficamente sappiate che è orribile. Oh oh. C'è un macigno che... Julian, lo sai che è vero che posso sfondare sia quella roccia e te insieme? Ti metto sulla roccia e ti schiaccio tutto. Il peperoncino e faccio a pezzi il macigno? Prima non c'era. Ehi, ma che splendida idea mi è venuta. Mi fa ridere che ci sono... Che bello! Cia cia cia, che gusto! Che botta! Accidenti! Non hai lasciato scampo a quel povero macigno! Ma quella è la barca di Julian? Io so dove vado! Sì, è la barca di Julian. Ok, con calma. Julian, sito un attimo. Fammi solo vedere cosa c'è qui intorno prima. Julian, io ti giuro che ti affogo. Sappilo. Io ti odio. Non c'è proprio... Nulla... Mi è caduto il... Dai zitto, Julian. Non c'è proprio nulla che mi faccia dire io ti sopporto, Julian. Ma proprio zero totale. Zero in assoluto. Comunque questo gioco... Oh! A livello comunque di gameplay... I comandi sono buoni. Cioè, non mi danno problemi come... La telecamera di altri giochi, per esempio. Più cazzate simili. Allora... Con calma. Con calma. È un po' difficile. Io ho sempre odiato i livelli acquatici. Questa cosa l'ho già detto. La telecamera! La telecamera! Scendi! Ma... Da quando Gloria spara le bolle? È diventata Squirtle, praticamente. Altrimenti. Aspetta. Io li odio i livelli acquatici. Ecco il motivo. Sono incontrollabili tanto quanto i livelli volanti. I livelli di volo, santo cielo. Ecco perché mi piace stare sulla terra ferma nei videogiochi. Incredibilmente, Gloria è diventata Squirtos. Fa il bollaraggio anche lei. Che cacchio... Boh, non lo so. Guarda. Gloria passa, però. Ok, questo ho sbagliato io. Lo ammetto, Gloria. Puoi salire qua? Perfetto. Io penso sia automatica la salita. Ecco fatto. Penso... Cinque monete, credo. Credo che quelle fossero cinque... Gloria, risali, ti prego. Ecco fatto. Questo gioco è strano, ma non riesco... A... A non farmelo piacere. A livello di gioco. A livello grafico... Mi sta dando... Stasera io avrò gli incubi, sappiatelo. In alto, come la punta delle orecchie del gombo. Stasera io avrò gli incubi. Oppure come la luna, quello che trovi prima. Rimbalza in alto. Ale! Ale! Ma sti mini giochi del culo... Ah, dove... Ma scusa, ma spiegamelo almeno che devo fare quelle cose, no? Una tecnica perfalta, Miss Gloria. Non perfetta come la mia, ovviamente. Mi danno i punteggi, ma non mi spiegano che devo fare anche le cose. Posso rituffarmi? Ah no, era tuffati di sotto. Ci sono monete almeno che posso prendere? Gloria diventa da Squirtle. Ricordiamolo. Guardati negli occhi e... Ti sto guardando la schiena, se proprio, Giulia. Ah, siamo tornati dove eravamo con Alex. La zona dove sono affogato, in pratica. Mi sono appena reso conto di una situazione strana... Che tocca a Melman. Che fa? Non è Melman, quello appeso alla sporgenza. Aiuto! Oh, grazie al cielo! Si è teletrasportato! Ho bisogno delle tue straordinarie capacità da pilota per una questione della massima importanza. Della massima importanza! La voce di Melman è la stessa del PS2. Quella di Gloria non ne sono sicuro. Martin, credo di Siman, anche lì non sono sicuro. Prostrati e i miei piedi come dovrebbero. Voglio che tu vada a salvarli. Eh? Che cazzo è che vuoi? Quanti ne devo salvare? Cinque. Credo... Ah, no, penso di farcela. Il palloncino bonus! Penso di potercela fare tranquillo. Col collo almeno li prendo. Ah, pura round è questa roba. Ok. Continuo a dirlo. Sembra la mod grafica di un gioco vecchio, questo. Cioè, è come se stessi giocando la versione PS2 con la mod grafica che ti busta le texture. Per fortuna le... Smellman. Per fortuna i comandi sui stessi della PS2. Io credo che non ci sia possibilità, o almeno qui non ci sia possibilità di svagare. Penso che sia tutto scriptato. Se andassi di là, mi direbbe stattene fermo. Marti, questo è l'ultimo avviso. Non riuscirai mai a segnare finché ci sarò io in porta. Sai, mi hanno soprannominato... Una partitina di calcio. Chi? Chi ti ha soprannominato il muro? Non hai mai giocato a calcio? Cinque minuti fa non sapevi neppure di cosa si trattasse. Principio semplice, Marti. Calci il pallone, blocchi il tiro e salti per festeggiare. Ragazzi, andiamo. Per quanto mi riguarda avete già parlato fin troppo. Perché non la piantate e non cominciate a giocare? Ascolta, se ti metti contro di me... Saranno guai. Ok. Ma come... Non puoi farcela! Non nella mia porta! Eh, lo so! Continui a spostarti dove tiro la palla! Non da giocatore che ti sta stra... Alex, io ti giuro... Ti odio... Ragazzi, io... Ho gli incubi! Guarda la faccia di Marti! Porca troia! Roba da incubo! Roba da incubo! Comunque basta aspettare in un punto e poi tirare. Uno, due... E gira tutto. Lo sai che cosa hai davanti? Eh no, stavolta la presa. Un muro! Esatto! Sai Alex che mi... Un muro con una grande personalità, ben inteso! Alex, stai zitto, per favore. Bel tentativo, Marti! E lo dico da... Ma dai, ma questo era palesemente... Palo! Eh dai, questo almeno è andato dentro. Ragazzi, voi sappiate che io ho appena finito di mangiare. Ho un po' il senso di vomito. Ho un po' il senso di vomito per tutto quello che sto vedendo. Veramente. Io stasera non dormo. Dormo con la luce accesa stasera. Lo sai che cosa hai davanti? Eh, palo... Palo parata. Palo golla. Traversa, golli in realtà. Sei abbastanza bravo, signor Marti. Ma ora voglio giocare a calcio come si deve. Sceglierò un compagno davvero bravo. Mortino! Certo, fai pure, piccoletto. Dicci come giocare. Tanto siamo certi di vincere. Anzi, guarda, io non ti ascolterò. Ah, bene. Allora non te lo spiego neanche. Ok, va bene. A me va bene, guarda. Tanto ho capito che devo tirare la palla e col calcio fare gol. Come l'ha... Come l'ha presa? Ma dai! Me l'ha rubata da sotto i piedi. Questa era... Credo fosse fallo, quello. Dove sono io? Ma perché questo minigioco del calcio in Madadascar? Perdonami. A parte che è di una stupidità inumana sto minigioco. Posso anche saltare, complimenti. Ok. Levati! Ma porca... Chissà che... Ma perché me l'hai rubata da sotto i piedi, Alex? Scusami. E quanto dobbiamo arrivare? Scusami. Non c'è neanche un timer. Non c'è nulla. Ma dai! Ma levati! Dannazione. Tieni. Quanto devo fare? 3 a 0? 10 a 0? Boh. Io continuo a fare gol tanto. Ah, 3 a 0, dai. Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato alla brochure. Ora un'ultima fotografia per noi e poi in stampa. Madadascar 2, grazie per aver giocato. Questo abbiamo sistemato tutto, vero, Maurice? Sire, non dobbiamo caricare l'aereo, portare a casa i giganti e vivere mille disavventure. Ecco, mi succede sempre quando non prendo appunti. Ma perché sembra un tossico, Maurice? Scusami. Signore, mi scusi. M handsめ. Sous-titrage Société Radio-Canada Grazie a tutti.